Adesso vi presento un Boker, fotoro in Kytex, fotoro della Blade Tech Industries. Il modello è della Boker, ben fatto, stiletto, modello militare. Applegate Firebun, c'è la firma sulla lama dei due coltellinari. Il coltello è un'ottima impugnatura, adatta proprio al suo utilizzo. È un modello militare. La parte inferiore di una delle due lame è seghettata. Molto bello, molto leggero, ottima presa.